La passione per il cinema, credo che si sia capito. Io in realtà ho avuto due mentori. Uno, permettete di ricordarmelo, almeno ai 20 anni è stato mio padre, che per nostalgia dei suoi 15 anni in Africa, quando ritornò da bambino mi portava sempre al cinema e mi diceva che il cinema è l'unica finestra che hai sul mondo per evadere da quest'isola. In realtà, devo dire, io non ho mai avuto il coraggio di abbandonare a tratto delle struggenti bellezze di questo luogo l'isola, però vi posso assicurare che quella finestra l'ho aperta e il cinema in 20 anni è entrato a casa mia. E l'altro mentore è un signore che voglio presentarvi adesso, che è il professor Gianni Canova. Per la sua dedizione e la passione per il cinema che mi ha trasmesso in questi anni, io ho voluto fortemente, posso considerarlo un amico del festival, lo vorrei invitare qui con un caloroso applauso. Posso dire amico, posso dire amico perché è così, ognuno ha i suoi punti di riferimenti, questi sono i miei due punti di riferimento, massimo rispetto anche per gli altri critici cinematografici che collaborano con noi, che abbiamo da anni, però io ho queste mie due visioni. Gianni, io ti ringrazio di essere parte di questo festival e vorrei insieme a Gianni Canova qui con noi l'onorevole Pina Picerno, che è la vicepresidente del Parlamento europeo, che questa sera ci onora della sua presenza, ringraziando anche il Parlamento europeo che da diversi anni ci concede il patrocinio morale proprio per comprendere un po' il punto di vista anche dell'Unione europea, per l'appunto proprio su questi scenari di guerra, questa sezione non competitiva che vogliamo riflettere sul danno che la guerra può creare attraverso chiaramente l'audiovisivo, all'essere umano, agli ambienti e a tutto il resto, i quali ci introdurranno per l'appunto uno, il primo dei tre film in selezione che in Donbass. Prego, a voi. Grazie, grazie Michelangelo, davvero, grazie. Bene, prima di vedere Donbass credo sia bello e giusto che la vicepresidente del Parlamento europeo ci porti una testimonianza in diretta della sensibilità con cui il Parlamento sta seguendo questa difficile situazione a pochi chilometri insomma dal cuore dell'Europa. Sì, intanto grazie, grazie, buonasera a tutte e a tutti, è davvero un piacere e un onore essere qui, vi porto, vi trasmetto i saluti della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Mezzola, che ha guardato questo appuntamento con grande interesse e con grande voglia appunto di trasmettere un messaggio di partecipazione e di vicinanza del Parlamento europeo e della ragione per cui io sono qui per complimentarmi con il Presidente per davvero la lungimiranza, la visione che caratterizza da sempre questo festival e che ancora di più in queste ore riscopriamo perché insomma il Presidente ha voluto aggiungere questa sezione speciale, non competitiva, che si chiama appunto Scenari di guerra, come avete sentito e mi sembra un messaggio non scontato, particolarmente importante, si parlava prima della propaganda, allora io penso che il cinema possa essere ancora, ancora una volta vorrei dire, elemento di conoscenza, si parlava prima di una finestra aperta sul mondo, di conoscenza e di riflessione, delle cose che sono accadute e che ancora accadono e quindi è molto bello che in questo momento si senta l'esigenza di capire che cosa sta succedendo. E allora che cosa sta succedendo? Voi sapete che quella che abbiamo sotto gli occhi, questa invasione ingiustificata, ingiustificabile non è una guerra come un'altra, perché quando in genere si parla di guerra si tende sempre a confrontare due torti e però questa non è una guerra esattamente così, qui non ci sono due torti, c'è un invasore che è appunto Vladimir Putin che ha invaso un Stato sovrano, l'Ucraina, che in questo momento si sta difendendo e sta difendendo naturalmente i propri confini, il proprio territorio, la propria intangibilità, la propria indipendenza insieme anche alla propria popolazione. Abbiamo sentito di stupori di guerra, di crimini terribili che sono stati compiuti in queste ore, testimoniati esattamente grazie al lavoro di filmmaker, perché noi abbiamo le prove di quello che in queste ore sta accadendo, perché ci sono dei filmmaker lì, filmmaker indipendenti, non sono embedded come erano nella guerra del governo, questi sono spesso a rischio della vita, con investimenti anche economici. E mi piacerebbe che da qui noi facessimo un applauso a queste persone che ci permettono di vedere, perché questa è la prima guerra che noi viviamo sostanzialmente in presa diretta, conoscendo direttamente attraverso i social network e attraverso il lavoro preziosissimo di questi filmmaker, quello che accade è quasi come se fosse davvero a pochi metri da noi non a pochi chilometri da noi. E quindi questo è un aspetto decisamente importante e rispetto a tutto questo le istituzioni europee, caro professore, hanno deciso di essere molto nette e molto chiare molto nette e molto chiare nella testimonianza politica della necessità di non rimanere in mezzo di non essere ambiqui. Le istituzioni europee da subito, il Parlamento per primo, ricorderete la Presidente Mezzola è stata tra le prime leader in Europa a recarsi fisicamente a Kiev quando Kiev era ancora assediata e quel gesto ha avuto una portata politica molto molto importante, stava a raccontare che le istituzioni appunto non rinnegavano una posizione di ambiguità, come spesso pure abbiamo ascoltato, anche nel nostro paese ma sceglievano di schierarsi in maniera netta, chiara e forte a difesa del popolo ucraino l'abbiamo fatto con una serie di azioni, professore, lei lo sa, aiutando i rifugiati ritirando fuori dal cassetto la direttiva cosiddetta per la protezione temporanea che era stata immaginata per un'altra enorme tragedia che aveva vissuto il nostro continente la tragedia dei Balcani che viene applicata però per la prima volta ai profughi ucraini significa che per i profughi ucraini non si applica il famosissimo trattato di Dublino possono scegliere liberamente dove andare e possono scegliere liberamente di restare nel paese che scelgono per la durata di due anni, per un tempo che poi è rinnovabile abbiamo offerto sostegno naturalmente finanziario, abbiamo offerto sostegno sì militare lo sapete è stato oggetto di dibattito anche nel nostro paese ma lo abbiamo fatto perché quel popolo come dicevo si sta difendendo e non sostenerli attraverso tutte queste azioni significava appunto consegnarli alla sconfitta certa alla sconfitta sicura e allora noi in questo tempo non possiamo accettare che i confini geografici di uno stato sovrano possano essere modificati attraverso l'utilizzo dei carri armati è inaccettabile e sarebbe un precedente molto pericoloso ecco perché noi pensiamo che l'Ucraina sta certamente lottando e combattendo per difendere i propri confini, il proprio popolo ma sta lottando e combattendo per difendere anche le regole che insieme ci siamo dati anche i valori che noi insieme abbiamo creduto quando abbiamo fondato le nostre democrazie occidentali e allora questo è il punto e della ragione per cui e arrivo, chiudo poi insomma non so se ci saranno altre domande e la ragione per cui noi abbiamo voluto e la notizia di pochi giorni fa riconoscere all'Ucraina lo status di paese candidato all'interno dell'Unione Europea è stata una scelta importante anche questa non scontata in genere il riconoscimento avviene dopo molti anni professore e invece qui noi abbiamo voluto riconoscere l'eccezionalità di questa situazione la Commissione ha lavorato in maniera molto rapida per riconoscere questo status che era stato richiesto dal Presidente Zelensky e dal popolo ucraino in maniera molto decisa e molto forte allora noi abbiamo pensato che la richiesta di quel popolo che guarda l'Europa e che guarda tutti noi come un'isola a cui approdare mentre intorno in furia la tempesta non poteva rimanere nella pila delle richieste che attendono l'istruttoria ci sono dei momenti in cui la storia bussa alla porta delle nostre democrazie sono quelli i momenti in cui è necessario coraggio è necessario visione è necessario rispondere in maniera chiara l'Europa, le istituzioni europee l'hanno fatto e lo fate anche un pezzettino voi stasera aprendo questa discussione che è così importante e così necessaria io per questo vi ringrazio molto davvero grazie, grazie per questa testimonianza appassionata e per questo richiamo anche al cinema come strumento di conoscenza e anche la memoria che il cinema, mentre parlava mi veniva in mente quel film straordinario che è l'ora più buia che ci ricorda come, in una situazione analoga con un paese che invadeva la Polonia e la Francia con altri carri armati che andava a dire a Churchill in Inghilterra il Regno Unito non ci interessa state fuori e Churchill invece decide di combattere, di entrare in guerra di cambiare, nell'ora più buia si assume per combattere in nome dei valori che l'onorevole Picciano adesso ci ricordava allora adesso noi stiamo per vedere un film credo quasi doveroso nel senso che è un film si intitola Donbass, già il titolo è un programma ed è stato girato a partire dal 2014-2015 poi è andato al Festival di Cannes dove ha vinto il primo premio alla sezione Un Sartain Regan del 2018 quindi non è un film sull'oggi e questo è molto interessante perché è un film prima di tutto sulla follia della guerra di ogni guerra e secondariamente perché è un film che ci dice che là nel Donbass già da un po' di tempo c'era un inferno anche se tutti noi tutti, compresi i nostri media occidentali facciamo finta di non vederlo di non vederlo questo film ce lo fa vedere e ci fa vedere ciò che là accadeva già 5, 6, 7 anni fa con una potenza che a me ricordo un quadro di Bruegel perché viene fuori un mondo in cui tutti sono in lotta contro tutti e in cui l'umanità tira fuori il suo aspetto più spietato, più feroce più stupido, più ottuso non è un film di propaganda non è un film a tesi è un film che racconta la follia della guerra oscillando fra due registri il grottesco e il tragico da un lato c'è il grottesco lo vedrete sono 13 episodi apparentemente senza un filo conduttore che li leghi se non questa dimensione appunto della follia della guerra alcuni episodi sono grotteschi c'è per esempio l'episodio lo vedrete del primo matrimonio celebrato con il rito della Nova Russia con gli sposi che sghignanti o sghignazzanti sembrano usciti da un film di Fellini in una scena che è quasi al limite del kitsch deformante e poi però c'è il versante tragico che è quello che vedrete nell'episodio del simpatizzante filo ucraino antirusso che viene legato a un palo e insultato dalla folla finché una vecchia gli si avvicina gli spiaccica un pomodoro in faccia oppure l'episodio più straziante che è quello in cui una macchina da presa lo vedrete entra in un rifugio antiaereo comunale sembra un attopaglia non c'è luce non c'è acqua non c'è elettricità i servizi pubblici sono intasati di escrementi dai tubi colano liquidi disgustosi solo a vedersi c'è puzza c'è umido c'è freddo gli esseri umani sono lì fermi seduti dentro coperte e a un certo punto qualcuno dice sembra di essere tornati all'età della pietra è un po' la profezia di Einstein che risuona dicendo se ci sarà un'altra guerra sarà veramente una regressione dell'umanità e allora credo che il modo migliore di vedere questo film sia proprio quello di interrogarci su questa assoluta follia e lo ricordava prima Ronald Seiko sulla capacità che le immagini hanno di testimoniare la verità e anche la sua scomparsa perché spesso la prima vittima della guerra è la verità spesso le guerre si vincono anche con le fake news ma da sempre la più grande guerra dell'antichità la guerra di Troia secondo me è stata vinta con una fake news il cavallo di Troia era una falsa notizia non era un dono agli dei ma era uno strumento di istruzione di massa per usare quindi è ovvio che le fake news ci sono e vedrete come il film inizia e finisce mettendo in scena la come dire un episodio in cui la realtà collassa dentro la finzione o forse la finzione ridisegna la realtà nella costruzione di una notizia falsa le fake news sono uno degli elementi credo sul teatro di questa guerra e forse su questo può aggiungere anche nel nostro paese dove come dire le notizie spesso vengono sparate c'è anche una responsabilità degli organi di mezzi di comunicazione di massa che pur di far aumentare lo share fanno parlare chi le spara più grosse senza avere la possibilità di accertare le fonti di quello che viene detto ma il film che state per vedere ci ricorda anche questo no io la ringrazio molto professore per aver voluto precisare le cose che appena detto perché non è scontato noi non è scontato in particolare nel nostro paese lei ricordava l'eccezionalità della situazione italiana che io confermo avendo una osservatorio che è quello appunto dei parlamenti e dei paesi degli stati membri dell'unione europea da nessuna parte fatemelo dire con un pizzico di amarezza e questo sottolinea ancora una volta l'importanza invece dell'operazione che compiamo stasera in nessun paese di Europa noi abbiamo un dibattito pubblico che è simile a quello italiano dove fin dall'inizio si è spacciata come libertà di stampa l'idea di confondere e di ospitare entrambi le posizioni quella di chi fa un torto e quello di chi subisce quel torto allora quella non è libertà di informazione quella è disinformazione e allora bisogna stare molto attenti perché lei parlava dell'utilizzo della propaganda come uno dei piani di questo conflitto ed è molto vero perché questo è un conflitto che si gioca sicuramente sul livello militare come è evidente sotto gli occhi di tutti ma sempre di più i conflitti sono fatti di tante cose si parla lo avrete sentito della cosiddetta guerra ibrida che è fatta di tanti elementi attacchi cyber ma anche soprattutto di fusione di fake news di disinformazione questa roba avviene non da oggi avviene da moltissimo tempo e da moltissimi anni che la Russia di Vladimir Putin prova a destabilizzare il nostro ordine politico parlo appunto di quello europeo attraverso l'utilizzo di fake news attraverso l'utilizzo della disinformazione lo ha fatto a più livelli lo ha fatto tentando di influenzare per esempio alcune elezioni politiche le elezioni europee non ci è riuscito fino in fondo fino a questo momento ma è un elemento molto molto significativo a cui bisogna prestare la massima attenzione perché naturalmente quello diventa un modo per ottenere il consenso ovviamente dell'opinione pubblica come spesso è anche accaduto e diventa anche quello un terreno del conflitto che noi dobbiamo appunto come dire monitorare con grandissima attenzione in questi anni la Russia ha provato in più modi l'utilizzo di fake news ma anche l'intervento diretto in alcuni stati della nostra stati membri appunto dell'Unione Europea provocando per esempio alcuni incidenti avrete forse sentito parlare nella Repubblica Ceca c'è stato un incidente molto grave esploso un deposito di munizioni questo ha causato l'espulsione di alcuni funzionari russi erano spie russe evidentemente causando un incidente diplomatico molto significativo nel nostro paese si ricorda sempre molto poco ma è bene sottolinearlo un ufficiale della Marina l'ufficiale BO è stato arrestato per aver venduto segreti militari ai russi questo testimonia che cosa certamente che ora è in atto un conflitto che insomma potremmo discutere sulle ragioni per cui non abbiamo saputo prevederla questa invasione io ho una mia personale opinione cioè penso che noi ci siamo troppo abituati a guardare il mondo attraverso i grafici e le cartine e non valutando la dimensione umana nella sua complessità c'è mancato un po' lo sguardo fatemela dire così della politica lo sguardo cioè di chi è capace di valutare la dimensione dell'essere umano anche su altri parametri che sono quelli della volontà di potenza dell'ambizione e sì anche del delirio del delirio e invece ci siamo abituati a guardare il mondo soltanto attraverso questa parola che viene evocata molto spesso in questo periodo la geopolitica attraverso i grafici attraverso le cartine non basta non basta e noi non abbiamo saputo prevedere quell'invasione esattamente per questo e allora e poi chiudo di nuovo questo è un momento che richiede una visione nuova ritrovata più capace di comprendere la complessità anche dei deliri dell'essere umano e la complessità degli esseri umani nella loro complessità e nella loro interezza e allora ci serve uno sguardo ritrovato uno sguardo nuovo come dicevo in questo forse il lavoro del cinema può essere assolutamente molto molto utile molto importante grazie e lo vedrete il regista del film che stiamo per vedere è ucraino si chiama Sergei Lotzinizza ed è un cineasta straordinariamente interessante proprio perché non parte da un pregiudizio ideologico da una posizione di schieramento lo vedrete a un certo punto i checkpoint filorussi e quelli ucraini si assomigliano le mine saltano per aria nei campi innevati di qua e di là e quello che conta e quello che gli interessa e in questo ha uno sguardo profondamente umanista è far vedere le conseguenze che la terribilità della guerra ha sulla vita della gente comune di qua e di là perché poi come diceva Bertolt Brecht alla fine di una guerra chi ha perso è la povera gente sia tra i vinti che tra i vincitori e vedendo questo film viene sempre in mente e chiude davvero quella bellissima frase di Paul Valéry che dice che la guerra è un massacro fatto fra persone che non si conoscono per conto di persone che si conoscono e non si massacrano buona visione pregherei un attimo l'onorevole Pina di qui con noi Claudia noi vorremmo omaggiare il Parlamento Europeo con un'opera dell'artista ischitano Felice Meo che è il nostro simbolo che è il castello aragonese l'artista tutte le sue opere che sono uniche le fa da ferro riciclato perché anche questo è importante il riciclo soprattutto come messaggio questo è il simbolo del castello aragonese di questo festival che noi omaggiamo all'Unione Europea portavoce è lei grazie onorevole Picerno l'ufficio della Presidente Mezzola che ne sarà assolutamente felicissima e vi ringrazio davvero molto per la vostra sensibilità per la vostra attenzione e lo ripeto ancora una volta per la vostra visione è qualcosa di non scontato ed è davvero molto molto importante grazie bene grazie a entrambi grazie Gianni buona visione di Donbass grazie a tutti